ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi andiamo a vedere l'ultima sfida che è uscita in tema di halloween ragazzi quindi come la risolviamo non l'ho trovata neanche così tanto difficile sinceramente quindi ragazzi io faccio due titane qua che così andiamo a far fuori un po di scheletrici metto anche un mago tanto per far compagnia anche se effettivamente non fa nulla di che poi io ragazzi entro da questa parte quindi metto un ice due titane le curatrici macchina d'assedio e un po tutto quanto mettiamo anche l'altro ice golem ovviamente anche i maghi e vado a mettere una bella furia qui degli scheletri qua vicino alle torri infernali signori e si va che è un piacere adesso io vado a gelare proprio qui qua vado a metterci una bella furia attiviamo il potere del sorvegliante signori andiamo a mettere giù gli scheletrini qua vado a mettere una invisibilità che così non ci ammazzano le truppe ne mettiamo anche un'altra per scusate per sicurezza e la sfida signori è praticamente conclusa abbiamo le solite tesle agli angoli che danno un po fastidio ma attiviamo il potere della nostra campionessa e come per magia completiamo in maniera molto easy questa sfida ragazzi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao